Buongiorno, ben trovati. Appuntamento di mercoledì 28 settembre con Mattino 6. La nostra consueta rassegna stampa. Oggi si celebra e si ricorda San Venceslao Martire, lo ricorda la Chiesa Cattolica, re di Bohemia, figlio di Uratisiao e di Draumira e nipote di Bolvoro, primo duca cristiano di Bohemia e della beata Ludmilla. Suo padre Uratislao era un principe virtuoso, valoroso e benigno, ma la madre Draumira, atea e pagana, univa ad un'alta alterigia diabolica, una grande crudeltà e perfidia. Venceslao ebbe anche un fratello più giovane, di nome Bolesiao, perfido come la madre Ludmilla, nonna di questi due principi. Venceslao volle Venceslao presso di sé, premendole educare l'erede secondo le massime del cristianesimo. Venceslao ebbe per maestro un prete di santità e prudenza, non comune alle cui cure. Corrispose lodevolmente, mostrando già in tenera età il suo amore per lo studio. La virtù fu messo in seguito a studiare in un collegio di Praga. Era ancora giovane quando gli morì il padre. La madre allora prese le redini del regno. Questa pessima donna sfogò il suo odio contro il cristianesimo, facendo atterrare le chiese, proibendo il culto pubblico e persino l'insegnamento della religione cristiana. I fanciulli revocò tutte le leggi emanate dal marito in favore dei cristiani e scacciò i magistrati che non si professavano pagani. Gran numero di fedeli furono vittime di questo suo odio. Non è a dire quanto fosse grande il dolore per queste cose, quanto raddoppiasse i suoi sforzi, le sue preghiere, perché Venceslao, erede al trono, un giorno ponesse termine a questi mali e appena fu possibile incitò Venceslao a prendere in mano le redini del governo, assicurando da parte sua protezione, preghiera e consiglio, ma bisognava fare i conti con il fratello educato e sostenuto dalla perfida madre. Si decise di dividere il regno, la parte preponderante toccò a Bolesiao e la Bohemia, propriamente detta, rimase a Venceslao. Non contenta, la madre volle sopprimere anche la Pia Ludmilla, rea di aver educato cristianamente. Venceslao la fece infatti strangolare nel suo oratorio. Ludmilla è venerata come martire di Bohemia. Intanto scoppiò la guerra. Radislao, principe di Gurima, si portò con una potente armata negli stati del nostro santo. Venceslao, per difendersi, prese anche egli le armi quando i due eserciti si trovarono di fronte. Venceslao, divinamente ispirato, propose a Radislao di affidare l'esito della contesa ad un duello per impedire in tal modo spargimento di sangue. Il principe di Gurima accettò certo di vincere, ma ecco che mentre combattevano due angeli si posero ai fianchi di Venceslao, dandogli la vittoria. Lo zelo di Venceslao, nel reprimere i disordini della nobiltà e difendere gli oppressi, gli attirarono molti nemici. La stessa sua madre si mise a capo della congiura a tradimento. Lo invitò nel suo palazzo e di una notte, mentre Venceslao si recava a pregare, lo fece barbaramente trucidare. Era l'anno 936, San Venceslao Martire, ricordato oggi dalla Chiesa Cattolica. Noi apriamo la nostra consuetara segna stampa, come sempre con le prime pagine del quotidiano Il Centro, la prima pagina di ogni edizione. Partiamo dall'edizione di Pescara, andiamo a vedere insieme i titoli che troviamo sul giornale Oggi in Edicola. La cronaca in primo piano, falso incidente per truffare anziana, suo figlio ha provocato uno scontro e si fanno dare 2.000 euro in preziosi. Non è la prima volta che questo accade nella nostra regione. Più volte le forze dell'ordine hanno messo in guardia soprattutto le persone anziane a non rispondere a queste telefonate che arrivano spesso proprio in casa di persone in età avanzata. Poi vedete la fotonotizia, si parla di calcio, di mogli, di fidanzate, dei biancazzuri, giocatori del Pescara, belle ed eleganti, ecco le donne del Pescara. E poi vedete di spalla, processo grandi rischi bis, Bertolaso, il procuratore generale, chiede tre anni di carcere per l'ex capo dipartimento della protezione civile. Poi torniamo dalla parte di destra della nostra pagina per vedere altri titoli, si parla di politica, stop al rimpasto, siamo al comune di Pescara, Teodoro difende la figlia assessore. E poi lavori ad ottobre, sì da Roma, al taglio della diga. E poi a Francavilla cade dal balcone per l'antenna, donna è grave. Un altro incidente c'è stato in provincia di Pescara, a Farindola, in particolare il ristoratore Ustionato stava tagliando l'erba e in prognosi riservata. Lasciamo l'edizione di Pescara del centro, andiamo a vedere insieme l'edizione di Chieti Lanciano, Vasto e poi come sempre proseguiremo con le altre edizioni del quotidiano d'Abruzzo. Poi andremo a vedere come sempre anche le prime pagine dei quotidiani nazionali, oggi in edicolo. Allora, edizione del centro di Chieti Lanciano Vasto, contromano per 12 chilometri, sull'autostrada A14, Vasto automobilista fuori di sé, bloccato dalla polizia stradale, patente ritirata. E poi vedete a centropagina, premio Paone agli studenti, modello di Chieti studenti, in questo caso del liceo classico Gian Battista Vico. E poi le cronache, università, il rettore perde la sfida contro il CDA, San Salvo, tentò la rapina con il macete, 4 anni e 4 mesi. E poi Rioni in rivolta, residenti contro la ZTL, in questo caso in centro a Chieti. E poi Vasto, l'accoltellatore pentito, tentato omicidio di domenica scorsa, proprio a Vasto, ex compagno, resta in carcere. Ieri si è tenuta a pescare all'udienza di Convalida. Più tardi vedremo anche il servizio con l'intervista all'avvocato difensore dell'uomo. Allora, andiamo avanti, lasciamo l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro, andiamo a vedere insieme l'edizione di Teramo. E poi, come sempre, chiuderemo con l'edizione dell'Aquila Avezzano e Sulmona. Vediamo la prima pagina del centro edizione di Teramo. In questo caso una notizia, ancora una volta triste, che riguarda l'ennesimo incidente stradale sulla nostra regione. Travolto ed ucciso sulla bici da corsa, sportivo 83N, tamponato e scaraventato sull'asfalto da un'auto. Vedete nella foto proprio il luogo della tragedia dell'incidente accaduto ieri mattina. Poi vedete le altre notizie. L'inchiesta in due aziende, 4 milioni di fatture false. Poi Roseto, l'Alfagomma, compra e salva la Sitef. E poi, concluso il fermo biologico, la marineria, c'è sempre meno pesce. Poi una notizia che riguarda l'editoria. Teleponte si riaccende, Di Francesco riparte e chiede di pagare i debiti. Allora, lasciamo l'edizione di Teramo del Centro e chiudiamo con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, sempre del quotidiano Il Centro. Poi, nella seconda parte, ovviamente, andremo a vedere, a leggere insieme le pagine delle cronache provinciali, ovviamente anche dal messaggero. Allora, prima pagina, edizione di L'Aquila del Centro. In questo caso, il titolo principale riguarda proprio il processo che si sta tenendo all'Aquila. Tre anni di carcere a Bertolaso. L'Aquila, la richiesta del procuratore generale. Processo grandi rischi bis, vedete nella foto, proprio Bertolaso. E poi, vediamo gli altri titoli, gli altri articoli, i richiami di articoli che troveremo all'interno del giornale. Verifiche negli ospedali, imboscati all'ASL, indagini in corso su 254 casi. In questo caso, scusate il gioco di parole, siamo ad Avezzano e poi, sempre nella Marsica, sempre ad Avezzano, Badante trovata morta nel suo letto. E poi, delitto morrone, quel giorno c'era un altro uomo, nuove ombre, dopo 20 anni, ricorderete la tragedia accaduta nella zona Peligna. E poi, un altro incidente stradale, questa volta fortunatamente non mortale, ma è un giovane grave. Dopo uno schianto avvenuto all'Aquila, il ragazzo ferito è un sedicenne che in scooter era appena uscito da scuola ed è finito contro un'auto. Abbiamo visto, dunque, le prime pagine delle quattro edizioni del centro. Adesso possiamo, insieme, andare a vedere qualche titolo dei quotidiani nazionali che troverete oggi in edicola. E poi, ovviamente, andremo a vedere insieme anche le pagine interne dei nostri quotidiani. Allora, partiamo dal Corriere della Sera, i paletti dell'Europa sui conti, Renzi, Massisma Immigranti, fattori eccezionali. E rilancia il ponte sullo stretto, parla il Presidente del Consiglio, che mette, dunque, i paletti all'Europa per quanto riguarda i conti pubblici. E poi vedete in alto, la notizia che oggi ritroviamo un po' su tutti i quotidiani nazionali, il primo duello televisivo fra due candidati per la Presidenza degli Stati Uniti. Clinton vince in TV, ma Trump riparte all'attacco. Vedete la stretta di mano tra i due candidati, il repubblicano Donald Trump e la democratica Hillary Clinton. Dal Corriere della Sera a Repubblica, l'Italia alza il deficit al 2,4%, braccio di ferro con Bruxelles, Renzi chiede 6 miliardi e mezzo per sisma immigrati e rilancia il ponte sullo stretto, può dare 100 mila posti di lavoro. E poi vedete più in basso, Betancurro e le Farco raiutino la pace e poi di spalla, Ilari vince il primo duello, Trump battuto su tasse e donne. Andiamo ancora avanti, il Fatto Quotidiano, la Boskin Tour nel Sud America a spese dello Stato per piazzare il sì. E poi a Roma il Movimento 5 Stelle divora il quarto assessore, si parla dell'amministrazione Raggi e dei problemi che ci sono nel capitale. Poi vedete più in basso, taglio basso sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, autostrade aumentati, i pedaggi per regalare, scrive il Fatto Quotidiano, 5 miliardi. Ai Benetton e siamo al messaggero, spinta alla crescita, deficit rivisto, via libera al PIL con lo 0,8%, un disavanzo fino al 2,4% nel 2017. E poi vedete anche sul messaggero come su tutti i quotidiani, duello TV, Ilari vince i punti, Trump ora sarò più cattivo. E poi un richiamo alla crisi al Comune di Roma, un altro no a Raggi, rischio conti, grillo, tacete su Roma. O sanzioni, siamo al quotidiano, il mattino di Napoli, sisma e migranti, sale il deficit, il Governo rivede al ribasso il PIL e poi ponte sullo stretto, il sì di Renzi con 100 mila posti di lavoro in alto. Video hot, appello della preside, torna a scuola, ti aiuteremo, si parla di questa ragazza vittima di questo video hot, ricorderete la tragedia di qualche settimana fa di quella ragazza morta, suicida proprio per un suo video che era diventato virale sulla rete. Poi a fondo pagina sul mattino la secchiona Clinton batte Trump, questo il titolo sul duello televisivo tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Andiamo avanti, siamo al quotidiano La Stampa di Torino, il titolo principale riguarda il ponte sullo stretto e la sfida Renzi-Grillo, via libera entro tre mesi darà 100 mila posti, dice il Premier, la replica di Grillo, eri contrario, la tua parola non vale. E poi Ilari raggiante, Trump studia la rivincita. Siamo al quotidiano libero, domani compleanno di Berlusconi, 80 anni di vita svitata, Silvio si confessa in politica, non ho amici, Marina ha sostituito mia madre, il lavoro ha prevalso sull'amore. Dunque 80 anni per l'ex Premier Silvio Berlusconi. Proseguiamo il tempo anche su un altro giornale come Libero, vicino al centro-destra, il titolo principale riguarda il compleanno di Silvio Berlusconi, domani compie 80 anni, l'uomo che ha cambiato l'Italia, sul tempo amici e nemici rendono onore a Berlusconi. E poi di spalla, vedete, giunta nel caos. Siamo a Roma, anche Tutino lascia la raggi. E siamo al quotidiano avvenire, il titolo principale riguarda i problemi dell'immigrazione, senza protezione, rimpatriati sudanesi a rischio persecuzione, la polizia turca fa fuoco sui profughi siriani. Dunque problemi un po' in tutta Europa e poi a Clinton il primo round, ma Trump non va K.O. E poi torna il ponte sullo stretto, Renzi può dare centomila posti di lavoro, dice il Premier. E siamo al manifesto quotidiano di sinistra. Vedete il gioco di parole sul ponte sullo stretto che vorrebbe realizzare il Premier, titola il manifesto Ponte Vecchio, che è anche il ponte di Firenze, città cara ovviamente al Premier Matteo Renzi. E poi vedete in basso Marchionne condannato, reintegrati gli operai licenziati. Siamo al quotidiano Il Foglio, sempre ricco di tematiche politiche, un titolo fra i tanti in prima pagina, Liberali italiani alla prova del Trump, candidato repubblicano che ha perso, secondo le notizie apparse oggi sui giornali, questo primo duello televisivo con la candidata democratica. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi pronto per il ponte, poi dobbiamo continuare con la Barilecce e la Napoli-Palermo, dice il Premier, a Bari il G7 Economico, in programma a maggio 2017, dice Renzi, un evento. E poi vedete altri titoli, uno in particolare, in alto, treni locali a 50 km l'ora, Puglia a rischio paralisi, si parla del trasporto pubblico locale in Puglia. Ricorderete qualche mese fa la tragedia, lo scontro fra due treni nei pressi di Andria che causò purtroppo diverse vittime. E siamo al quotidiano La Verità, nuovo giornale da qualche giorno in edicola, diretto da Maurizio Belpietro. Dunque, inps, ecco tutti gli stipendi di chi ci taglia le pensioni e poi vedete a centropagina Farinetti da Italy, prodotti dei market, ma più cari si legge in questo articolo. Infine, vietato prendere le impronte ai clandestini, i poliziotti denunciano, il governo ci lega le mani. Siamo al gazzettino di Venezia, ecco la manovra, tagli e incentivi nel DEF, rivisto al ribasso il PIL, il deficit invece aumenta. Secolo XIX, deficit fino al 2,4%, salvabanche, tre istituti chiedono dai 12 ai 25 euro. Ai correntisti e poi il colpo di Ilari, raggiante dopo il duello televisivo vinto con Donald Trump. Siamo all'osservatore romano, il quotidiano della Santa Sede, la vittoria della pace, vedete questo abbraccio che rappresenta, fotografa il titolo principale dell'osservatore romano e poi di spalla salta il summit sulla Siria, questa guerra che purtroppo negli anni ha causato oltre 250 mila morti. L'osservatore romano è l'ultimo giornale della rassegna stampa nazionale che abbiamo preso in edicola. Ora a proposito di rassegna stampa nazionale possiamo tornare invece alla rassegna stampa locale, ripartire dal quotidiano Il Centro per andare a vedere i primi titoli delle cronache regionali. Partiamo dalla pagina d'Abruzzo del centro appunto perché in prima pagina c'è questa protesta del sindacato di polizia il SIULP sulla scorta alla visita a Pescina del presidente della Camera Laura Boldrini, poliziotti umiliati dalla Boldrini. Il sindacato dice che la presidente della Camera non ci ha voluti vicino e costretti ad un deprimente nascondino. Questo dicono i sindacalisti del SIULP, uno dei più grandi sindacati della polizia. E poi di spalla, garante dei detenuti, la Bernardini d'Alfonso, dice si beffa di me, e di Pannella. E poi in basso, sisma, spostata a venerdì, la scadenza per gli hotel. Andiamo ancora avanti. Sanità, il dopo commissario, parte dalla compartecipazione. Movimento 5 Stelle e Forza Italia denunciano che gli utenti dovranno pagare di più le spese su assistenza e riabilitazione. Per quanto riguarda l'assessore Paolucci, smentisce e annuncia agevolazioni. L'opposizione confonde i ticket con il sociale e poi il progetto Elsa 2 va avanti, malgrado lo stop scatta la diffida. Vediamo ancora qualche altro titolo. Consiglio regionale, il centrodestra esce dall'aula per protesta e poi caccia la paralisi davanti al TAR. Andiamo ancora avanti. Arriviamo alla prima pagina di Pescara del centro. Allora possiamo andare a vedere l'inserto Abruzzo del Messaggero per vedere i titoli che riguardano le pagine regionali d'Abruzzo. Ovviamente per andare a vedere quali sono gli argomenti trattati proprio nell'edizione Abruzzo del Messaggero. Diverse le notizie. Tra l'altro, a proposito di notizie delle ultime ore, si parla a Pescara, e parliamo in questo caso, facciamo subito un richiamo di sport, della squalifica per due giornate inflitta ieri dal giudice sportivo al giocatore biancazzurro Francesco Zampano, protagonista di un tocco con la mano nella gara con il Genoa, subito Pescara pronto al ricorso. Zampano rischia di saltare, però due giornate di campionato. Prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, tre anni per Bertolaso, questo è il titolo principale, parliamo del processo grandi rischi bis, e poi Pescara giunta a zerata via al totonomi. Allora io direi di andare a vedere subito il primo servizio proprio che riguarda questo presunto rimpasto che ci sarà in comune a Pescara. Ci sono già delle polemiche. Vediamo il servizio che fa il punto, servizio realizzato da Francesca Romana Testi. Un rimpasto di giunta che si vocifera da prima dell'estate e che riguarderebbe le donne in carica al comune di Pescara. Il nome che ricorre più spesso è quello di Sandra Santa Venera, alla quale sono state affidate deleghe prestigiose, quale quella al personale, all'edilizia privata, alla semplificazione amministrativa, lo sportello SUAP, la tutela del mondo animale, i rapporti e tutela con i consumatori, le pare opportunità. Secondo i rumors si tratterebbe di raffreddamento dei rapporti con il partito e non questioni inerenti, merito o lavori svolti. Lei stessa parla di notizia riportata dai media, ma nessuno strappo interno. Io non ho ricevuto alcuna notizia ufficiale da parte del sindaco. Lavoro con tranquillità e serenità, con massimo accordo con i colleghi di giunta, con i consiglieri. Ho un buon rapporto, non ho alcuna notizia di sfiducia da parte del partito. Sono a posto con la coscienza, ho lavorato su deleghe molto complesse, delle tecniche come il personale. In Comune in predissesto tutti i miei atti sono finiti sempre nella commissione del Ministero degli Interni che deve avallarli. Ho cercato di trovare alternative che siano state addirittura anche per il Comune a costo zero. Abbiamo fatto convenzioni con l'albo dei geometri praticanti, avendo così i ragazzi a fare tirocinio presso l'edilizia. Abbiamo fatto una convenzione con la Casa Circondariare per i lavori utili. La rinnoviamo adesso con il Tribunale per accogliere coloro che sono sottoposti a pene alternative. Abbiamo fatto un progetto con gli immigrati che fanno appunto lavori importanti per il Comune, quelli della manutenzione. Sull'edilizia abbiamo avviato un tavolo tecnico permanente dove appunto gli tecnici del nostro ente si incontrano con quelli esterni per superare ovviamente quelle criticità che sono legate a volte all'interpretazione della legge molto complessa. Sull'edilizia soffriamo sulla mancanza di tecnici perché non possiamo assumere, ma questo non è che perché non posso, non voglio. E' la legge che mi pone dei freni, quindi nonostante queste attività legate quindi molto alle norme, io ho cercato di lavorare. Questo è il servizio sul problema rimposto al Comune di Pescara. Qualche altro titolo prima di parlare di meteo. Andiamo sulla seconda pagina dell'inserto Abruzzo. Acqua Santa Croce, lo spettro della mobilità sull'intero personale. Poi leggi non promulgate da tempo, il centrodestra abbandona l'aula. Parliamo del consiglio regionale di ieri che si è tenuto all'Aquila. Noi dunque ci fermiamo per qualche istante con la lettura dei nostri quotidiani per parlare di meteo. Lo facciamo con il meteorologo Luca Mennella che vado a salutare. Luca, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Qual è il tempo che ci attende per le prossime ore e per i prossimi giorni? La domanda è molto semplice. Proseguirà questa fase di bel tempo sulla nostra regione? Assolutamente sì. Le condizioni meteorologiche sull'Italia e sull'Abruzzo continueranno a presentare condizioni di tempo stabile e streggiato su tutto il territorio. Le temperature infatti risulteranno anche un aumento attorno ai valori delle medie stagionali. Un peggioramento non è previsto se non prima del weekend quando una perturbazione atlantica giungerà da nord-ovest. Per questi giorni possiamo aspettarci ancora tempo stabile e streggiato. I mari risulteranno calmi e poco mossi e la ventilazione è debole dei quadranti estenzionali. Una fase di bel tempo che dura ormai da diversi giorni. Possiamo parlare quasi di un'estate che si allunga anche grazie a delle temperature che durante il giorno raggiungono e superano in alcuni casi anche i 24-25 gradi. Sì, possiamo dire che è una situazione un po' particolare perché la situazione a livello barico è abbastanza statica. Non si sono avuti stravolgimenti. Abbiamo avuto un forte maltempo al sud mentre le regioni del centro-nord hanno vissuto condizioni di tempo stabile e streggiato. Cosa che comunque rientra nel clima di questo periodo che riguarda soprattutto i mesi di settembre e ottobre. Bene, prima di salutarci un'ultima domanda. Anche se è sempre difficile allungarci con le previsioni a distanza di qualche giorno, possiamo dire che proseguirà e quanto eventualmente questa fase di bel tempo? E se sono previsti cambiamenti, se ci sarà la prima vera rottura a livello meteorologico per quanto riguarda la nostra regione? Guarda, come hai pronunciato tu, è molto difficile spingersi nel metro a lungo termine. Tuttavia possiamo già cogliere dei segnali di cambiamento attorno al primo ottobre, che cade nella giornata di sabato. Però questo peggioramento andrà ad interessare soprattutto le regioni del centro-nord e poi successivamente potrà interessare anche l'Abruzzo. Ma ci torneremo sopra nei prossimi giorni. Perfetto, benissimo. Io ringrazio Luca Mennella. Appuntamento ovviamente con te domani, sempre nel corso di Mattino 6. Buona giornata e buon lavoro. Anche a voi. Ringraziamo Luca Mennella. Vedete inquadrato il sito in meteo dove potete trovare tutte le notizie relative proprio alle previsioni del tempo che riguardano la nostra regione, anche le previsioni ovviamente che riguardano il nostro paese con le temperature. Dunque tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'evoluzione meteo dell'Abruzzo. Noi allora torniamo in onda e torniamo ai nostri quotidiani, ma anzi ci fermiamo per qualche istante, come sempre per una breve pausa. Poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6. Gravamo le pagine di Pescara del centro, proseguiamo, parliamo proprio del argomento che abbiamo affrontato nel servizio di qualche istante fa di Francesca Romana Testi verso l'azzeramento della giunta. Siamo a Pescara, Teodoro contro il rimpasto. Mia figlia non si tocca, dice l'ex vice sindaco e poi Movida Violenta, agenti fino alle 4 di notte in via Battisti e poi il consorzio Pescara Vecchia che dice stop ai drink a un euro, così sono finite le risse. Proseguiamo, un calvario senza fine, senza soldi da 7 anni, beffati dal crack Pozzolini, il dramma di 300 ex lavoratori della CPL Imperial. E poi proseguiamo, siamo ancora a Pescara, sia al taglio della diga, lavori da metà ottobre. Vediamo il sommario dopo l'ok dei tecnici del Ministero, adesso manca solo un ultimo passaggio. Il sindaco, ora il nuovo porto, patto per il turismo tra D'Alfonso e gli operatori commerciali proprio del porto. Ancora cronaca di Pescara, Alzheimer, poche medicine nella farmacia dell'ospedale, denuncia dei parenti dei malati e poi la ASL dice troveremo una nuova sede per l'Aido dopo lo sgombero dei locali. Andiamo ancora avanti, l'astronauta Villa dei Allaurum, la notte dei ricercatori. Venerdì si terrà la tavola rotonda con il direttore dell'Icranet di Pescara. Ruffini, poi la cronaca, colpo sventato in via Piave ad un supermercato, preso ed arrestato il ladro, è stata recuperata dai carabinieri, anche la bici rubata. E poi siamo a Francavilla. Notizia di cronaca, cade dal balcone mentre aggiusta l'antenna, una donna di 30 anni è precipitata ad un'altezza di 3 metri in un'abitazione di Contrada San Giovanni, guarirà in un mese. Poi San Giovanni Teatino, torniamo a parlare di politica, scontro sulle nomine. Federico lascia la giunta sempre a San Giovanni Teatino. Il comune vigili sull'ex fonderia, Donato Fioriti di contribuenti italiani, interviene sulla bonifica dell'amianto. E poi SOS per 30.000 giovani precari. Domani si parlerà dei ragazzi che non studiano e non lavorano in un convegno che si terrà proprio a San Giovanni Teatino. E tra i relatori ci saranno anche gli assessori regionali, Marinella Sclocco e Andrea Gerosolimo. Siamo alla pagina di Montesilvano, del centro, anziana derubata in casa di Ori e Gioielli, ingannata dal racconto di un incidente in cui sarebbe rimasto coinvolto il figlio, ha consegnato preziosi per 2.000 euro. E poi risorge l'inno Montesilvano Cisafar, riscritta alla partitura del maestro Barzilai, che i tifosi cantavano per la locale squadra di calcio. E poi in basso, più reti ciclabili, fluviali e ambientali, tornano in città gli studenti della Facoltà di Architettura per elaborare progetti di mobilità sostenibile. Ancora Montesilvano, cade a pezzi un cavalcavia ferroviario, ieri l'intervento per la messa in sicurezza. Siamo proprio al confine tra Montesilvano e Marina di Città Sant'Angelo. Poi via Maremma, strada più larga per evitare i danni delle alluvioni, iniziati i lavori che i residenti invocavano da tempo. E poi a Montesilvano apre l'Uni3 con il ricordo di Finomena degli Castelli, l'Università della terza età. Poi Spoltore, l'europarlamentare Paolucci, in visita proprio nella cittadina in provincia di Pescara, più progetti con i fondi europei. E poi, sempre a Spoltore, in programma il dibattito sul referendum. Proseguiamo. Siamo alla cronaca della provincia di Pescara, di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara. In primo piano l'incidente è accaduto a Farindola, austionato al volto mentre taglia l'erba. Grave incidente, in contrada Vicenne il ferito è un ristoratore di città Sant'Angelo, ora è in prognosi riservata. E poi Popoli, furto di rame alla linea dell'Enel, quattro denunciati sono tutti italiani. Questo è l'esito positivo dell'operazione portata a termine nelle ultime ore dai carabinieri della Compagnia di Popoli. E poi Bussi, centrovisite, Di Marco, presidente della provincia, dice serve l'accordo per il bando. E poi, a tocco da Casauria, il TAR ordina di ricontare i voti. Accolto il ricorso dell'ex sindaco Lattanzio, battuto per quattro preferenze. Nuovo calcolo entro il 20 ottobre. E siamo alla pagina della provincia di Chieti. Sul centro sfiorata la tragedia a vasto, contromano per 12 chilometri sull'autostrada 14. L'automobilista entra in autostrada e imbocca l'altra corsia verso Termoli. La polizia lo blocca e gli ritira la patente. Poi vasto, tentò la rapina con il macetto, è condannato a quattro anni, quattro mesi. E poi l'ex compagno si pente per la pugnalata. Vasto, arresto non convalidato, ma l'Eucci resta in carcere. Il difensore dice che è provato, ma era fuori di sé. E noi andiamo ad ascoltare proprio l'avvocato difensore di Francesco Leucci ai nostri microfoni. Avvocato Margiotta, appena uscito dal carcere di San Donato per l'udienza di convalida del suo assistito, come è andata? Il signor Leucci ha riferito quello che è accaduto, ha risposto alle domande del giudice. Purtroppo un gesto insano e abbiamo comunque ridimensionato i fatti. Abbiamo chiesto un affievolimento della misura che ci riteniamo sia troppo gravosa per il signor Leucci. Chiedete i domiciliari? Sì, ovviamente sì. Aspetteremo adesso l'esito della decisione del giudice, sperando che accolga le nostre richieste. Altrimenti, ovviamente, provvederemo a gravare il provvedimento. Il suo assistito si è comunque presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri, quindi implicitamente si è reso conto di quanto fatto. Questo potrebbe essere un attenuante. Beh sì, è un appartenente alle forze dell'ordine, è una persona che è portatrice purtroppo di una patologia, si è resa conto del gesto insano che ha compiuto, ha immediatamente riferito ai Carabinieri quello che era accaduto e ovviamente ha ridimensionato i fatti per quelli che invece apparivano all'inizio, che sono completamente diversi da quelli raccontati dalla persona offesa. Ovviamente c'è un problema sotteso ai rapporti tra le due parti che verrà poi processualmente stabilito da chi ha la competenza a farlo. Come ha trovato il suo assistito? Non bene, è provato dai fatti. Le condizioni della ex compagna sono migliorate e fortunatamente nelle ultime ore, questa è una buona notizia comunque. Ci ralleghiamo, è una buonissima notizia e ovviamente il signor Leo ci si è immediatamente pentito del gesto compiuto, però ecco vi sono dei fatti che vanno ridimensionati e vanno poi accertati e rivisti in sede processuale. Andiamo avanti, parliamo di università, siamo sempre a Chieti, il rettore di Ilio perde la sfida contro il CDA, sei consiglieri danno forfè, una si dimette e accusa, leso un mio diritto, non era mai accaduto. Siamo alla pagina dell'Aquila, del centro, parliamo del processo Grandi Rischi Bis, venerdì ci sarà la sentenza, chiesti tre anni di carcere per Bertolaso, il procuratore generale Romolo Como dice fu operazione mediatica per screditare Giuliani, l'avvocato Cecchini condanna scontata anche sul piano morale, poi gli scienziati non vennero condizionati, l'avvocato Di Nacci ha chiesto l'assoluzione dell'imputato, l'emozione dice non prevalga sui fatti. Siamo alla cronaca di Teramo, dal quotidiano Il Centro, tragedia a Martinsicuro, abbiamo visto anche dalla prima pagina dell'edizione Teramana del Centro, travolto ed ucciso sulla bici da corsa, sportivo di 83 anni, tamponato da una panda sulla strada statale 16, inutili tentativi di rianimarlo oggi i funerali. E poi il progetto IAELU, Ateneo, segreteria decentrata, aperti, sportelli nei comuni, parliamo dell'Università di Teramo, gli studenti potranno chiedere i certificati senza arrivare, senza venire a Teramo. E poi una notizia che riguarda indirettamente la sfida elettorale negli Stati Uniti fra Donald Trump e Hillary Clinton, perché Trump, proprio il candidato repubblicano, indossa cravate ferretti, l'azienda di Silvi, le cuce per lui. Dunque questa sicuramente notizia che fa onore all'azienda abruzzese, che fornisce le cravate al candidato repubblicano in corsa per la presidenza degli Stati Uniti. Noi andiamo, lasciamo il centro e ci spostiamo sulle pagine provinciali del Messaggero, poi andremo ovviamente a leggere anche le pagine del quotidiano La Città. Allora siamo sul Messaggero, ripartiamo da Pescara, giunta azzerata, sindaco al Bivio, abbiamo visto poco fa il servizio, poi Viale Pindaro, il bar in Guaia Cucurulo, l'ex rettore citato dalla Corte dei Conti per oltre 400 mila euro, affitto simbolico per il servizio interno alle facoltà pescaresi. E poi l'omaggio della regione a Filomena degli Castelli, a 100 anni dalla nascita, tante le iniziative proprio per ricordare questa abruzzese davvero che ha fatto la storia della politica italiana. E poi Movida blindata in piazza Muzzi, dopo la rissa da Far West dell'ultimo weekend, da sabato un presidio interforze in servizio nella zona del divertimento. Allora a proposito delle problematiche della Movida di Pescara, andiamo a vedere dunque il servizio. Riunione delle Forze dell'Ordine di Pescara in un tavolo tecnico dedicato alla questione Movida nella nuova location delle notti all'insegna del Baccano e delle litiche, come sabato scorso, hanno visto un residente fotografare il lancio di una sedia nella centrale piazza Muzzi. Non era la prima volta che si chiedeva l'intervento delle autorità per garantire più sicurezza nella zona. Autorità già impegnate a vigilare con un presidio fisso nell'altra area della Movida, Corso Mantonè. La risposta è arrivata in tarda mattinata e ad annunciarla è stata proprio il primo cittadino. Marco Alessandrini. Siamo lieti che le sollecitazioni che abbiamo mosso da tempo abbiano trovato accoglienza, nel senso che ci sono vari fronti della Movida. La Movida è divertimento sano ma qualche volta esonda. Allora, al fine di tenere sotto controllo la situazione, considerando le migliaia di persone che gremiscono nel fine settimana la zona del mercato coperto, ecco che è stato disposto lo spostamento di un dispositivo interforze. Significa che ci saranno rappresentanti non solo della Polizia Municipale, ma anche della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per garantire un presidio stabile e fisso in quello che oggi il mercato coperto è l'epicentro della Movida. Per tutelare la necessità del divertimento con la quiete pubblica e il rispetto di chi ci vive. Sarà un dispositivo ampio che prevederà una presenza di Forze dell'Ordine fino alle 4 di mattina, onde consentire uno svolgimento ordinato della febbre del sabato sera. Il dispositivo interforze sarà composto da 8 membri, due per Forze dell'Ordine, dalla Polizia Municipale ai professionisti dell'Ordine Pubblico, quindi Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Prostituiamo la lettura delle pagine del messaggero, sempre cronaca di Pescara, colpo al tigre, ladro fugge in bicicletta e poi il banchiere, il creativo, la donna ufficiale, ecco gli abruzzesi, famosi nel mondo, il cuore a casa, la testa altrove, storia di carriera e memoria. Siamo ancora alla cronaca di Pescara e dell'area metropolitana, menze scolastiche, l'appalto rischia di saltare, Cirfood, una delle ditte titolari dell'appalto, è sotto processo per un vecchio affidamento, il 20 ottobre, l'udienza preliminare. E poi astronauti e ricercatori che notte proprio a pescare un ricco cartellone di appuntamenti tra Aurum e Icranet, grazie alla sinergia collaudata con enti e università. E poi la cronaca giudiziaria, ha ucciso in preda a deliri perizie sul killer di via Tibullo, ieri udienza interlocutoria con l'analisi comunque delle perizie a Pescara per il duplice omicidio dello scorso anno in via Tibullo dove morirono madre e figlio e poi delitto del cumadin, piano fallito soltanto per un caso. E siamo all'Aquila, Bertolaso ha chiesti tre anni di carcere, il suo comportamento è stato causa della diffusione del messaggio e delle conseguenze che ne sono derivate. Nel processo Grandi Rischi Bis, l'ex capo della protezione civile è accusato di omicidio colposo plurimo. Venerdì la sentenza, le parti civili, il legale Cecchini scontata la sentenza di condanna. Invece l'avvocato Di Nacci dice che è innocente perché nessuno ha mai condizionato gli scienziati. Andiamo ancora avanti, seconda pagina di L'Aquila. Schianto con il motorino all'uscita di scuola, grave un diciassettenne. Poi sicurezza, chiesta un'unica sala di controllo. E poi ancora l'Aquila, salviamo quell'albero in piazzetta delle tavole, lo chiede il comitato Iemo Nanzi. E poi torna domenica fuori porta, la rassegna sbarca quest'anno. Anche nella Marsica torna in parte, grande partecipazione alla festa della Panonta. Infine il ricordo dieci anni fa moriva Claudio Porto. Andiamo ancora avanti, ci spostiamo alla pagina, in questo caso della Marsica e della Valle Peligna. Partiamo da Avezzano, allarme ammoniaca nella discarica. Lo sostiene la Regione in una lettera indirizzata ai titolari dell'impianto di compostaggio a massa d'alba. Ancora Avezzano, atleta, si spoglia dopo la corsa. Denunciato per atti osceni e sempre ad Avezzano, bollette dell'acqua. Ci sono tanti errori. E siamo a Sulmona. Banca blocca imprenditore. Il giudice annulla gli atti. Poi giovane massacrato di botte ai giardini. Siamo sempre a Sulmona. E poi a Prato la Peligna. Furbette del cartellino risarciranno la asla. Infine scontrone, fiume Sangro, nuova rotta più sicura. Siamo la pagina di Chieti del quotidiano del messaggero. Università scontro nel CDA. E la Costantini si dimette. Tre l'assenze per conflitto di interesse sul caso del vecchio. Salta il numero legale. Alta attenzione per la discussione sul procedimento disciplinare al direttore generale. E poi oncologia pediatrica esposto alla Corte dei Conti. Inaugurati da mesi e mai attivati dai hospital e ambulatori. Si muove cittadinanza attiva. E poi fioriti. Vigilare sulla bonifica dell'ex fonderia di Nicola. E poi la Camera di Commercio inaugura una mostra su Francesco Paolo Tosti. E siamo la pagina di Lanciano Vastortona. Cedo l'urbanistica. Quando lo decido io, il sindaco Mena, siamo a Vasto. Replica le accuse piovute dal PD, il suo stesso partito. Il progetto firmato da mia madre in tempi non sospetti. Non conta il disco verde alla riqualificazione del villaggio turistico di San Nicola, noto della discordia. Dice, aveva tutti i requisiti. E poi San Salvo, Polizia Municipale, in tre dovranno risarcire l'erario. Lanciano, Rosetta, Madonna. Una professoressa guida il Partito Democratico. E poi Vasto accoltelò la ex compagna. Il finanziere resta in carcere. Abbiamo ascoltato poco fa il suo avvocato. Poi ancora Lanciano, autoscooter, scatta il maxisequestro. Infine Ortona, lente porto, dice riallacciare i rapporti. Con Ancona, siamo alla pagina di Teramo del quotidiano del messaggero. Università, arrivano le segreterie decentrate per tutti gli studenti. E poi cambio della guardia, la scordamaglia saluta i colleghi. In procura arriva la dottoressa Medori. E poi procura, visite regolari, chiesti 180 mila euro. A un pediatra, la Corte dei Conti, vuole rivalersi nei confronti del dottor Antonio Sciarra. Violata l'esclusiva, si legge in questo articolo. E poi la storia. La famiglia non ha i soldi per il funerale. La salma resta all'obitorio. Per un mese. Siamo alla pagina di Giulianova di Roseto della Val Vibrata. La Cassazione gela i parenti delle vittime. Terremoto dell'Aquila. I giudici sostengono che non è specificato il nesso di causalità tra le inadempienze ed il crollo dell'edificio. Ci furono 13 vittime. Ci sono stati già tre gradi di processo. Si ricomincia da capo con il rischio concreto della prescrizione. Ancora Giulianova. Civicamente nuovo no all'imposta di soggiorno. E poi calcio violento. Denunciati 11 moscianesi dopo una partita dei campionati minori nella nostra regione. Silvi, il nuovo Benur griffato da Cameli. E poi Martinsicuro. Notizia di cronaca che abbiamo ritrovato anche sul quotidiano Il Centro. Anziano ciclista travolto ed ucciso. E poi Alba Adriatica. Nuovo depuratore in attesa del Tar. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Dobbiamo dunque andare a vedere insieme, a leggere insieme però le pagine del quotidiano La Città di Teramo. E partiamo proprio dalla prima pagina del quotidiano La Città. Eccola qui. Travolto ed ucciso in bicicletta. Incidenze sulla strada stradale 16 a Martinsicuro. 83enne investito dalla Panda. Guidata da un 77enne. Questo è il titolo principale. Andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano La Città. Partiamo dalla cronaca regionale. Chiesti tre anni di pena per Guido Bertolaso nel processo Grandi Rischi. Poi Basto percorre 12 chilometri contromano in A14. A fondo pagina l'Aquila ha consegnato a Mazzocca il pulmino donato dalla Banca Popolare di Bari. Il mezzo da nove posti sarà utilizzato per le operazioni di protezione civile in caso di emergenza o necessità. Vedete nella foto il momento della consegna simbolica del pulmino da parte della Banca Popolare di Bari. Al sottosegretario, alla giunta regionale con delega alla protezione civile Mario Mazzocca. Siamo a Teramo. Notizia che riguarda l'editoria. Teleponte chiede il concordato preventivo. La mossa dell'editore di Francesco arriva dopo la richiesta di fallimento avanzata da giornalisti e tecnici. Andiamo avanti. Non è stato un banale incidente di caccia. La moglie e i figli di Giuseppe Ciabattoni chiedono la riapertura delle indagini sul fratello Alessandro. Andiamo ancora avanti. Proseguiamo. Pagina 6. Fondazione 5 milioni per no profit e progetti di rete. Approvati i criteri di programmazione dei fondi triennali. E dal Ministero arriva il via libera al nuovo statuto. E poi Welfare Studio. L'Università di Teramo vara il progetto che semplifica la vita agli studenti. Proseguiamo. La caserma finanziera i lavori alle superiori. Fondo di investimento interessato alla Porrani. la provincia fa fronte all'emergenza terremoto. Andiamo ancora avanti. Parliamo di cronaca giudiziaria. In questo caso l'abbraccio alla dottoressa Irene Scordamaglia. Il magistrato della Procura saluta i vertici e i colleghi del Tribunale prima di approdare alla Cassazione. Vedete la foto proprio del saluto ieri mattina in procura della dottoressa Scordamaglia. Proseguiamo. Siamo alle pagine della provincia. Tocca la politica a sbloccare i lavori sul ponte. Il Comitato dei cittadini interviene sulla battaglia legale che sta bloccando i lavori sul fiume Vomano. Poi in basso un dibattito sul futuro delle professioni. Con Cianciotta e Paganini. L'ordine della Fondazione dei commercialisti di Teramo promuovono l'evento di lunedì alla biblioteca provinciale. La stagione di caccia. Doppiette divise alla vigilanza della sentenza. Botta e risposta tra Libera Caccia e Federcaccia. Fratelli d'Italia critica l'assessore regionale Pepe per non aver ascoltato le associazioni. Poi in basso Bisenti. Anche quest'anno torna a rivivere la tradizione del vino montonico. Siamo alla pagina della Val Vibrata. Ciclista travolto ed ucciso sulla statale per l'83enne Truentino Sante Tortù. Sono state fatali le lesioni alla testa. Poi Tortoreto il commissario assegna l'incarico per adeguare il piano spiaggia Santa Maria dei Lumi. Il nuovo parroco si presenta ai fedeli di Civitella. E poi tornando a Martinsicuro presentato il progetto del rondò di via Colombo. Pagina di Giulianova Mosciano. Ultras denunciati per gli scontri post partita. 11 tifosi del Mosciano finiscono ai guai per l'assalto ai sante Gidiesi. E poi il caso. Gli sfrattati della Orsini 63 chiedono aiuto al prefetto. Siamo a Giulianova. Ancora Giulianova civicamente mette in guardia la giunta. Tassa di soggiorno inapplicabile. E poi in basso distretto sanitario. La ASL riapre i termini del bando. L'azienda sanitaria accoglie la richiesta dell'amministrazione per la sede alternativa. Pagina di Atri. Roseto, Pineto e Silvi. Il mio staff nominato alla luce del sole. Siamo ad Atri. Il sindaco Gabriele Astolfi replica le accuse per l'assunzione di due giornalisti in comune. esigenza reale, dice il primo cittadino. E poi Morrodoro, pagliare senza acqua per i lavori urgenti, al serbatoio di case di Bonaventura, in basso Roseto, la Dasco, vicina all'acquisto della GAM. Presentata un'offerta identica ad Amadori, ma con diritto di prelazione. Siamo alla pagina di Silvi, la pagina sempre del litorale Terramano, sul quotidiano la città. La pista ciclabile richiede un nuovo ponte, sarà realizzato. Siamo a Silvi, vicino a quello mai completato e già costato oltre un milione di euro. Ai cittadini. E poi in basso, a Pineto, alle poste si prenota il proprio turno allo sportello, con una applicazione. Pagina della cultura. Questi 50 anni meno surrealisti. Il 28 settembre morì Breton con la sua avanguardia. Segnò il 900. Pagina dello sport del quotidiano la città. Terramo, quale futuro senza Campitelli? Sulle parole del presidente dei Biancorossi. La città e la tifoseria si spaccano. Torna l'incubo del 2008. E poi in basso, crisi santegidiese, terza sconfitta. E arriva il richiamo del patron Forlini. E infine atletica, la Vomano Granzasso difende la Serie A. Il club abruzzese riesce ad evitare la retrocessione ad Orvieto, grazie ad un lodevole spirito di squadra. E siamo, come avete potuto vedere, alle pagine dello sport. Dopo quelle del quotidiano la città, andiamo a vedere le pagine dello sport dal quotidiano il centro. Partendo dal Pescara, che sabato tornerà in campo alle 18 allo Stadio Adriatico per affrontare il Chievo. Verona Di Maran, con Zampano, che rischia due turni di stop. Ieri la squalifica con prova televisiva. Il giocatore dice gesto istintivo, non era volontario. Intanto si ferma anche Crescenzi. E poi nell'altra pagina, vedete, donne nel pallone. Sono belle e discrete. E sanno fare gruppo. Lega Pro, Girone B, i due sorrisi del Teramo. Difesa solida e Sansovini. I segreti degli ultimi risultati positivi. Poi Serie D garantisce Battisti. L'Aquila farà paura a tutti. E poi Pallacanestro, la Serie A2 più bella, con piazze da 40 scudetti. Parliamo del campionato, proprio di Serie A2, che partirà domenica prossima. Chieti e Roseto subito in campo contro le favorite. Fortitudo, Bologna e Verona. E poi in basso il primo esame del Teramo. E in B con l'ex Lulli. E siamo al ciclismo. Marchesani vuole portare la GM Ovini nei professional. Il team Continental pensa in grande per la prossima stagione. Il patrona al lavoro per allestire una formazione competitiva nel 2017. Via Fortin. Ma potrebbero arrivare Colli e Iafrati. Dopo Tizza, Parriniello e Broggi. E poi ritroviamo il titolo che riguarda l'atletica. Lievila Gran Sasso alla finale B. La Sabatini guiderà le terramane nella manifestazione di Macerata. Lasciamo le pagine dello sport del centro. Ci avviamo in chiusura. Siamo sulle pagine del messaggero. Zampano dice che non era rigore. Il terzino ribatte ai Genoani. Aveva il braccio attaccato al corpo. Difficile evitare il contatto. In un'azione così veloce. Parla dunque il terzino del Pescara che però subito dopo, qualche ora dopo, aver rilasciato questa intervista è stato fermato per due giornate dal giudice sportivo. Grazie alla prova televisiva il Pescara inoltrerà ricorso proprio in queste ore. Ricorso che sarà discusso venerdì dalla Corte di Appello federale. Noi andiamo ad ascoltare proprio il difensore del Pescara, Francesco Zampano. Come si è visto dall'azione, è stata un'azione veloce. L'ho presa, mi è picchiata sulla coscia, poi involontariamente mi è battuta sulla mano. Ma visto che l'azione comunque era veloce, è stato un gesto istintivo, ma manco io me ne sono accorto. Poi vedendo dopo, mentre dagli immagini, da alcune inangolazioni si vede che picco la coscia e mi rimbalza fuori l'appellone. Mentre da un'altra immagine si vede che magari impiega sulla coscia e poi mi becca la mano, ma c'è involontariamente. Non penso manco che, ho sentito dire alcuni che ho fatto poi il gesto dell'ombrello per buttare fuori la palla. Si diceva così a Genova, quindi tutti i colori. Comunque niente, non è stato un gesto involontario, che manco io me ne sono reso conto. Parliamo di questa partita del Pescara nella tua Genova, nella tua regione, una partita a particolare con tante emozioni. Ancora una volta in 11 contro 9 non siete riusciti a vincere, ma avete comunque conquistato un punto importante, perché il gol è arrivato alla fine. Sì, abbiamo provato la partita bene, abbiamo modificato qualcosa, l'abbiamo messo davanti al mister. Visto che loro comunque giocavano molto sulle fasce, mi hanno messo a marcare tre virgolette laxalt, così per limitare un po' le offensive loro e poi ripartire di conseguenza. Abbiamo fatto un gran primo tempo e poi siamo entrati il secondo tempo non benissimo, infatti abbiamo preso gol ed è un atteggiamento che doveva migliorare molto. Poi abbiamo fatto un 1-0 e siamo riusciti a recuperare comunque la partita, che comunque è un punto sempre a Marassi e buono contro il Genova. Per comandata la partita potevamo magari vincere la partita, ma potevamo anche perdere, quindi è andata bene così. Sabato a Pescara arriva il Chievo Verona, partita a questo punto da vincere. Manca un po' la vittoria al Pescara, manca lo spogliatoio, la conquista dei tre punti? Sicuramente, anche perché abbiamo raccolto poco di quello che abbiamo fatto, quindi sicuramente una vittoria in casa davanti al nostro pubblico ci darebbe una grande mano. Queste le dichiarazioni di Francesco Zampano, il suo segreto lavora sempre per migliorare, parla il procuratore del giocatore Andrea Cattoli. E poi la giornata di lavoro per i Biancazzurri, Manai e Memushai con l'Albania, dunque non saranno a lavoro con il tecnico Massimo Oddo, ma saranno disponibili per la gara di sabato. Seconda pagina dello Sport, dal Messaggero partiamo dall'apertura di pagina in alto. Caidi, ora il Teramo all'atteggiamento giusto, parla il difensore dopo la vittoria ottenuta con il Fano, la vigilia della gara di sabato a Bolzano con il Sud Tirole. Poi Serie D, Battisti, l'Aquila serve solo un po' di tempo. E poi il calcio di eccellenza, Martinsicuro primo, ma il tecnico di Fabio frena. Parliamo di basket, Sergio, Proger per battere la fortituto serve l'impresa. E poi vediamo altri titoli che riguardano lo sport, atletica, la Gran Sasso settima, le finali nazionali a squadre. E poi ancora basket di Serie A2, Roseto in arrivo il centro, Martin, Paci e Casagrande, rischio taglio. Infine il tennis, Travaglia si impone sul Ricca e vince il trofeo Puliti che si è tenuto a Teramo. Noi ci fermiamo, qui siamo giunti al termine dell'edizione del 28 di settembre di mattino 6. Vi ricordo i prossimi appuntamenti informativi della giornata, come sempre, le nostre edizioni del TG6 alle 14 e poi alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video.